Abbiamo lavorato per essere pronti per questa partita, per l'inizio del campionato e siamo pronti per questo inizio del campionato, nel senso che sia fisicamente, tatticamente e mentalmente siamo pronti a questa partita, perciò tutto il lavoro è stato svolto in funzione di questo. Non abbiamo guardato prima certe cose, i carichi sono stati fatti forti in quel periodo lì, adesso siamo pronti, abbiamo abbassato i carichi e siamo più brillanti, perciò la squadra è pronta sia fisicamente che mentalmente. Io credo che solo il campo dirà quello che potremmo essere, solo attraverso le prestazioni, attraverso il lavoro, attraverso i risultati soprattutto. Quando si parte così è sempre difficile dire dove si può arrivare, cosa si può fare, perché è un campionato molto difficile, fra l'altro ridotto anche 19 squadre, a mio avviso è ancora più difficile, perciò è difficile dire dove potremo arrivare. Una cosa è certa, quello che ho sempre detto, in tutti i campi, in casa, fuori casa, dove andremo ce la giocheremo con tutti. No, no, è una squadra che è stata costruita per arrivare nelle prime posizioni, perché basta guardare i nomi, tutti esperienza, grande esperienza di squadra, sanno quello che vogliono sul campo, conoscono perfettamente la categoria, l'allenatore conosce benissimo la categoria, è molto di esperienza, è molto bravo fra l'altro, perciò è una squadra costruita per vincere. Anche loro magari non dicono niente, ma se tu guardi quello che hanno fatto, dici che questa squadra è stata costruita per vincere. Poi da qui a vincere ne passa, come noi diciamo, vediamo cosa succede, anche loro penso vorranno vedere le verifiche sul campo. Io sono soddisfatto del mercato, l'ho detto, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo adatto delle linee, le abbiamo percorse giuste, abbiamo su ogni ruolo delle alternative, perciò io sono contento dei ragazzi che ho a disposizione e mi fido molto di loro. Che saremo la mina vagante? Sì, mi romperemo le balle a tutti? Sì, questo è poco, ma sicuro. che morderemo tutti, questo è sicuro, perché sennò li aspetto qua. Sì, che quello è sicuro. Poi, le partite si possono vincere, perdere, gli episodi ti fanno cambiare una partita, però l'atteggiamento deve essere quello, devi avere il furore addosso. Sennò non si va in nessun posto se non sei così, non si va in nessun posto. Gli occhi della tiglia. Sì, non volevo dirlo, ma devi avere quegli occhi là, sì. Sennò non si va in nessun posto, non si va in nessun posto.